buongiorno a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi sono qui con sabrina quinta valle e oggi faremo il tag 100 domande stelle quindi non perdiamoci chiacchiere e iniziamo subito allora iniziamo con la prima domanda chi è stata l'ultima persona con cui si è tenuto per mano se ti trovassi in guerra spravviveresti allora se tipo mi nascondo da qualche parte non ci si nascondo perché dipende dalla situazione dipende da che tipo di guerra che cell hai iphone 8 con 7 hai mai bevuto latte dal cartone no no ho il bambino latte dal cartone più le bottiglie di plastica è vero hai mai vinto una gara di spelling no però sarebbe carina non sarei capace secondo me per dire cose strane quanto veloce sai digitare e che ne so io faccio tanto veloce perché ormai le so l'ordine delle lecce nella tastiera poi hai paura del buio si non lo so no dipende dalla situazione tipo se sto a casa di un'altra versione e vede il buio o l'ansia il tipo rimane il corrido ecco io rimane il corrido io l'ansia lei tipo sono abituata colore degli occhi castano chiaro castano chiaro l'ultima volta che hai scelto il bagno invece della doccia il bagno della vasca me lo faccio una volta ogni morte di papa no io me lo faccio perché non la volta scorsa la volta prima una volta sì no mi piacerebbe che mi cade sempre sei bravamente i segreti si si poi me lo dimentico ma non è che c'è qualcuno io faccio una morte di papa io non me lo ricordo quindi vado tu cosa vuoi per natale ma era buon natale cosa io vorrei mi trai l'autosting per favore parmi nel sonno sì io a me la madre mi diceva tu ti fai delle chiacchierate non mi sono ma io lo sento invece io faccio spaventare tutti perché io do degli urli io invece un incubo un incubo così no no io non me ne accorgo cioè non è che mi svegli ho dopo poi gli urli e l'improvviso nella notte hai mai fatto canoa? no no come sport no però sono andata in canoa ti considero una persona che è successo? si sono due persone famosissime troppo famose per rispondere esatto no ma no le persone ci sono sulla rubrica del tuo telefono e muovendo su 300 non c'avano il mio idea poi io sono tipo ma tu ma non mi amico mi chiese ma tu quanti contatti hai? io ho sentito qualcosa tu 500 ci sono persone che teccano un sacco di cose sei veramente è carino sta fiera del cappello avevo detto ti hanno mai chiamato poni no ti hanno mai chiesto un poni no che mi hai mai chiesto un poni tipo per regalo no progetti per domani domani faccio lezione e poi domani faccio lezione e poi non so neanche cosa devo fare dopo tipo adesso lei si trova da me ma è stata tutta una cosa pianificata al momento cioè stiamo uccidendo tanto quindi è cosa mia ok andiamo ci manca qualcuno ora sì una volta che hai detto ti amo mi senti oggi oggi sono molto happy sono felice sono euforica sei mai stato sospeso no sei mai solo sforzo la scuola no di cosa non vedi l'ora che finisce la scuola quindi domani beh domani non vedo l'ora che finisce tutta la situazione del coronavirus eh beh sì anche questa io che scopro se la si deve fare rumori io adesso mi scendo guarda ahi ah ma che che ti domanda è ti sei mai calato da una finestra se l'avessi fatto ora non sarei qui infatti no hai mai mangiato cibo no penso che non lo farò mai devi affrontare la verità c'è bisogno se devi affrontare la verità quando in quel momento ti hanno scoperto tu non puoi inventarti altre stupidaggini sei arrivato al capolino e devi dire ti piacciono le uova col presciutto? dipende quale uova tipo no a me non piacciono le uova tipo cioè cioè un uovo te lo mangi come una mela che è buono no tre cose che porti sempre con te come un bracciale vai c'è andare a mucina queste cose che mi hanno messo i fagioletti non le fagioletti no le cuffiette pure però non c'è vabbè fa niente cicatrici qui sui ginocchi io sto piena sì ma c'è cicatrici è stato che io caso poi ci sono rimasti i segni ti piace qualcuno? lo sa? e lui e lei lo sa? no quanti figli vuoi? se proprio fu... ragazzi hai impravviso diciamo che è una domanda un po' frettata da questa età già infatti due uno due basta uuuuuh cosa fai quando nessuno ti guarda? niente mi guardo intorno e mi guardo anche io perché altra parte mi parlo da sola sì certo sei mai stato innamorato? eh sì cioè allora vabbè sì in generale a me è raro che mi innamoro di qualcuno infatti mi chiedono ma a te chi piace? figlia non è più lungo allora chi viene con me? era di non più quello di come assumere ma ora è più lungo parli a te stesso sì sì c'è qualcosa che vuoi e non hai? mmm la dignità sempre vedi proprio quando è andata a... non lo stai cacciato al piano sì sì a chi pensi ora? ehm... niente al computer alle domande esatto hai abbracciato per ultimo cioè in questo periodo ti hai abbracciato per ultimo claudia la prima esatto dove è il tuo telefono? qui c'è proprio qui questo qui davanti a noi è ciò che sta registrando a te che importa scusami l'ultima cosa che hai mangiato? cotolette e cotadine cotolette e cotadine colore preferito? colore preferito? colore preferito? allora mi piacciono tutti i colori perché non lo so però... il rosa no il lilla l'ultimo film visto? l'alfa spacca internet Anna Beltre quale canzone ti sto ascoltando? niente ora proprio non ti sembra che sto ascoltando canzoni a te? se dici in questo momento nessuno no infatti però se in generale sto ascoltando molto reino no reino pure io però sto per farmela intravento si reino mio è pure nato sopra mano cosa vuoi? vai 3 2 1 la dignità animali non ce l'ho io non ce l'ho però vorrò un cane subito ho fatto io comunque si vorrei un cagnolino anch'io la tv stai guardando? ma io mi dico se uno sta rispondendo a queste domande secondo me gli sto ascoltando ma ti dico stai guardando la tv? allora in questo momento niente però ehm la prima attenzione che mi stavo rivedendo Violetta sono Disney class se mi capitano di fumare? no no bere alcol? no vabbè dormire nello stesso letto con una persona dello stesso sesso sì con le mie amiche queste due le salti no anche quest'altra anche quest'altra anche quest'altra anche quest'altra vabbè prendere droga no no rubare le medicine no no perché dovrei rubare le medicine? prendere antidepressivi no no non sono depressa mentire io non sono brava a mentire io ci provo poi mia madre fa ti vuoi avere quell'espressione? mentire ad un amico non si fa no non credo l'abbia mai fatto se si deve fare uno scherzo si va se si deve fare uno scherzo si fa se no non si fa se no non si fa fare qualcosa di illegale non credo l'abbia mai fatto no qui salta pure la saltiamo ferire ma in che senso? eh no ferire nel senso penso morale morale tutto morale no a me non piace ferire le persone dormire la fara di gelato la sua si si in un pub si un pub si un pub si un pub si è saltato? no è saltato e lo so perché non mi piaceva non funziona davanti andare in un ah partecipare a una festa da paura c'è perché sono 100 domande noi lo mettiamo da 16 minuti e penso se leggiamo tutte siamo arrivati alle domande 30 manco ancora guarda una festa da paura si si metterti lo smalto nero si mi piace però non ho le mucce sono cortissime si però non le metterti dei braccialetti ce l'hai oggi i braccialetti? oggi no perché devo andare a danza non voglio infatti ascoltare la musica hip hop si si mettere la maglia con il nome di un gruppo avete una cantante però più o meno è quello avere un cd di 50 centesimi non lo tengo un cd di 50 centesimi io sono serio ma non di 50 centesimi far finta di collassare quando ero piccola facevo sempre volevo far spaventare i miei genitori e poi le diceva dai è pronto mi sgamavano poi tipo una volta mi avevo fatto finta di dormire volevo far credere che stavo dormendo poi dicevo mamma vieni a vedere che sto dormendo poi facciamo nascondino si si mi piace giocare al dottore lo faccio sempre io lo faccio io lo faccio vale la morose ah la morose il ragazzo il ragazzo di un amico o un'amica no non piace questo da due ragazze conteso ah un litigio non si fa 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 e i telefonici si le facciavano già però possiamo fare la prossima volta c'è un video che se le vuole non si fa non la legge ah non la legge le chiavi di casa no le mie sono qui con questo splendido io ho l'ansia se non le sento mamma mia come quando non senti il telefono della borsa fai il tuo cuore ma perchè sono qua le mie chiavi? perdere il portafoglio le abbiamo fatte pochissime rispetto al centro le abbiamo fatte per lo meno una cinquantina sono le domande stupide? si perchè si fa? la vita life ah quindi ragazzi se volete a questo video vi è piaciuto lasciate tanti like iscrivetevi al nostro canale e seguiteci su tutti i nostri social e noi ci vediamo al prossimo video ciao